Generation gap, il salto o il divario generazionale. L'antropologia culturale e l'etnologia sono miniere di informazioni, anche di soluzioni a problemi che ci riguardano da sempre. Le aspettative, le proiezioni, anche psicologiche, il transfer di know-how, delle conoscenze, questi passaggi dalla politica alle aziende. Dipende, buon sangue non mente, recita un adagio. Ma dipende, a volte è vero, a volte mente e come, non è una cosa che sta nel sangue. Accogliere istanze, abilità, talenti, ma dipende, è una questione di condizioni, è una questione di educazione e di relazione soprattutto. C'è un proverbio inglese che dice The apple doesn't fall far from the tree. La mela non cade lontano dall'albero, ma le persone non sono alberi.